Da sei secoli l'Istituto degli Innocenti accoglie bambini, non si è sottratto nemmeno all'emergenza dei profughi ucraini. 21 piccoli hanno trovato una sistemazione alla Santissima Annunziata. A dieci giorni dal loro arrivo a Firenze hanno ricevuto in visita il ministro delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti, che ha visto in prima persona quanto sta facendo la Toscana per l'accoglienza. Beh, innanzitutto ho trovato la bellezza dell'umanità di questi bambini che hanno trovato una casa qui all'Istituto degli Innocenti a Firenze, nel nostro paese, ed è stato il vedere quello che tante volte abbiamo detto, queste bambine e questi bambini devono sentirsi a casa loro, perché siamo in Europa e questa è casa loro, e sono molto grata all'Istituto Innocenti, la città di Firenze, la regione Toscana, per aver accolto questo primo nucleo e per tutto il lavoro che si sta facendo. Il ministro ha sottolineato anche l'importanza di evitare la tratta e di far sì che gestire l'accoglienza siano i servizi sociali. L'Istituto degli Innocenti non potrà ospitare altri piccoli per ragioni logistiche, né sa quanto tempo coloro che ci sono attualmente resteranno. Intanto la regione deve far fronte ad una richiesta sempre maggiore di aiuto per i più piccoli. Continua la tendenza di un lento ma progressivo aumento. Di questi 6.321, 2.581 sono minori, quindi la percentuale di minori rispetto alla dimensione dei profughi è altissima. Complessivamente il 70% di queste persone sono sistemate e accolte nelle famiglie. Solo il 30% sta nei CAS o negli alberghi di prima accoglienza che come regione abbiamo messo a disposizione.